Musica E' fantastico questa cosa Allora siamo andati in discoteca Praticamente ci ha invitato un fregno Guarda più dei pai che adesso ve lo mostrerò E' qui sotto in realtà E' identico a più dei pai Ci ha invitato in discoteca Noi siamo andati però abbiamo un problema Siamo stanchissimi vedete Abbiamo praticamente il sonno al minimo Perché l'ho fatto studiare parecchio Aspetta aspetta faccio vedere più dei pai Cioè sto fregno è identico Guarda Però ci ha invitato più dei pai Quindi voglio dire siamo diventate persone importanti Guarda quanto cacchio sono stanco Oddio è fantastico Fanno la Gangnam Style No perché me l'ho smesso era bellissimo La voglio rifare La voglio rifare No no fanno sempre meglio è fantastico E' orrenda sta cosa Allora vedevo dire la verità Ormai mi ero talmente tanto abituato A quella musica Mi piaceva pure Quindi comunque ci hanno sbloccato Il negozio di vestiti Ok quindi qui possiamo praticamente Comprare tutti i vari vestiti Che c'è carbon di più E' un sacco di robetta Poi devo dire insomma E poi mi dovrebbe aver sbloccato anche qualche altro Spezzo per il computer Vediamo un po' O perlomeno spero Perché non è tanta la roba in realtà che si fa comprare Questa è la web La stessa web che ho io Identica Hanno sbloccato qualcosa Ma nulla di che In teoria Se io adesso mi compro C'ho il mouse questo brutto A una stella Se io mi compro il mouse questo brutto A 12 dollari No? Per dire adesso Lo voglio comprare Quanto mi cambia in realtà? Voglio vedere Facendo qualche piccola modifica Oh mi sono arrivato I soldi di youtube Perfetto Allora intanto Bisogna dormire un pochino Però vi spiego Allora il nostro canale è arrivato a 5675 iscritti E abbiamo fatto 31.000 visualizzazioni Quindi stiamo andando bene Stiamo andando Però potremmo crescere molto più in fretta Se riusciremo a fare Dei video che riescono a prendere Una vasta popolazione Al momento non siamo riusciti a fare Lo studio Raga io ho fatto studio Sono a 3 In teoria Non mi dovrebbero Cioè non mi dovrebbero bocciare Ma non so del tutto sicuramente Dessa cosa Che non mi bocciano Insomma Io adesso L'idea era questa Fallo studiare un altro pochino Perché per vedere Se riesco ad arrivare Almeno a 4 In modo che Prendiamo un bel voto Perché a te In teoria dovremmo prendere Comunque sia la sufficienza E poi Bisogna cominciare a lavorare Un pochino Perché bisogna mettersi I soldi Per andare alla fiera Vi ricordate Dobbiamo pagare 100 dollari Per andare alla fiera E 100 dollari Sto gioco Non so a pochi Cioè da di questo Allora Famo studio e lavoro Eh però un video Bisognerebbe fare Vedete Adesso ce l'avevamo 16 Era buono un video Da fare Allora Che vuole l'amico mio Oh me da 120 dollari E 2850 D'esperienza Allora Se faccio un video Un video Se faccio un video Con Aerobrain Un video Con Aerobrain Di Toxie Lanoware Non so come cazzo Si legge Eh Ok Va bene Che problema Cioè Glielo fanno subito 120 dollaroni Ti vero Io non vedo l'ora Che me le da Dai su Fammi le queste nuove carte E questa cosa così Va bene Va bene Ti credo Oh grazie Che mi ha dato Oh eccolo qua Allora me l'ha mandato a casa Ragazzoni me l'ha mandato a casa Lo fanno subito Regà Dov'è Si si Eccolo qua Gameplay Vai Non ancora nemmo sbloccato il resto Penso che bisogna comprare qualcosa Prima di poter sbloccare Il resto della robetta E pure il microfono Dovrei comprare Che fa quello Fa un po' schifo Va Però vabbè Vabbè Nel momento Non possiamo fare altro Quindi Fiamo un attimo Sto video Sto gioco Ma perché registro Cioè In realtà di solito C'è sempre il gioco De sottofondo Adesso c'è la cameretta mia Quindi io sto registrando Soltanto la cameretta mia Il gioco non esiste Professional comment Ragazzi Fammi un commento professionale Per favore E fammi capire Cioè Noi effettivamente Siamo dei professionisti E sappiamo Come si gioca a sto gioco Vai Fammi Vedete che pasta Siamo fatti Secondo me Mi hanno fatto un casino Mi hanno fatto E chi ho detto Ancora non ho capito Come cazzo Cioè non so se so a caso Ste cose Non mi scappano fuori L'intreci Vabbè Mo vediamo se riuscimo A Ecco È brutta La vedo brutta Allora questo Si può incastrare con Questo Che poi si incastra con questo Che poi vabbè Un punto solo Non abbiamo incastrato Però va bene Dai Adesso È quasi tutto Ben incastrato E quindi potrebbe andare Abbastanza bene Abbiamo nove punti Possiamo fare Uno da cinque Uno da quattro Io direi Uno di questo E un titolo E un titolo figo Ok eccoci qua Vediamo un po' Oh attenzione Il gioco è di corsa De macchine 69% di interesse 87 di contenuto 66 di video qualità E 113 di edizione Quindi abbiamo preso Uno sfracello di punti Questo dovrebbe essere Un video che Dovrebbe fare qualche Qualche cosa Ah beh ok Quella macchia società Ma io logicamente Non lo posso fare Perché ho il computer occupato Ma mentre abbiamo Il computer occupato Senza andava Un po' di lavoro Questa fare tipo A coltella A un vecchio E poi che ci abbiamo Quattro ore Ok Questo sei ore Mi dà 30 dollari Vai Me va bene Così tanto Con sei ore Dovrei riuscire A caricare Qualcosa al video E mi dovrebbe Ririberare Al computer Poi ve l'ho detto Bisogna lavorare parecchio Perché bisogna Metterci via Un po' di soldi Per poter Andare alla fiera Ok Vai Va a dormire Cioè Sono passate 6 ore E ha finito adesso E renderizzare Scandaloso Ma dove c'è Sto sovito io O B Ho preso B B B Ho cliccato Troppo in fretta Quindi non ho potuto Vedere Però ho preso B La nostra macchia Segue Secondo me C'ho piena De schiaffi Ah no no Ok c'è un braccio C'è un braccio C'è un braccio Dai Aspetta work Andiamo a fare 4 ore di lavoretto Qui Per nonno Perché poi Dovremmo arrivare Praticamente A 250 dollari Se non mi ricordo male Per comprare il computer Nuovo addirittura Allora aspettate Non so se conviene Comprare subito Il computer nuovo Oppure compri Prima qualche altro Pezzetto Nuovo Vediamo un po' Upgrade Vediamo un po' Che c'è Allora Ecco Vedete Il computer nuovo Passa 250 dollari Però c'ho 8 D'energia Quindi non so Se mi conviene Comprare direttamente Il computer nuovo Oppure Tenermi un attimo Tenermi un attimo Praticamente I soldi Da parte Per comprare Quest'altra cosette Nuove E poi Quando ci avrò più soldi E già sarò andato Pure alla Alla conferenza Comprarmi Il pc nuovo Allora senti Intanto famo Una cosa Intanto famo Compramo Il microfono La webcam Le cuffie Però le cuffie Sono col microfono Vabbè ma che c'è in culo Le cuffie La tastiera E siamo a 100 dollari Ma io quasi quasi Comprerei pure Il monitor In hd No vabbè Aspettavo a comprare Il monitor hd Eh però da 4 Il nostro monitor C'è da 2 No aspetta un attimo Mi ci compro qualche gioco Mi ci compro Vai vai Comprar A posto Allora abbiamo fatto Un sacco d'acquisti Righiamo questi Comunque sia Dovrebbero Cambiare Piano piano Abbiamo fatto Un sacco d'acquisti Eccoli qua Eccoli qua Open Ho detto open Vai Ecco il microfono Infatti vedete Ecco il microfono Si è sostituito Poi Webcam E la webcam E' pronta Poi Cuffie Ehi 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 Che mancava Mi ricordo La tassera Tassera Manca nient'altro Mi sa che sono a posto così Per il momento Per il momento Oh 20 dollari Cominciò pure a guadagnarci Un pochino Da Così Dai Dai video Adesso questo Spendo 20 dollari Lo voglio far promuovere In modo che comunque sia Prendo più iscritti Più visualizzazioni E il prossimo video Comunque sia C'errò un po' più Del scontro Adesso facciamo una cosa Io direi Deve dormire Dove pure ricominciare a studiare Apple test Oddio la roba che c'ho da fare Devo studiare Apple test Il 10 febbraio Aspetta Fatemi comprare il biglietto Ok Get ticket Ok Perfetto In modo che Non me spendo i soldi Altrove Sì Lo so Madre Non ho studiato per niente Rompi i coglioni Allora Io adesso direi Cibo Video E poi Mentre renderizza Studio Potrebbe essere Un ottimo piano Questo qui Regà Ancora È abbastanza Seguito come gioco Quindi direte Faccio un altro video Su questo qui Oh possiamo far pure Prima impressione Adesso eh Però noi In realtà Un primo video Su questo gioco L'abbiamo già fatto Quindi Direi De continuare Con gameplay Possiamo far pure impressione Perché abbiamo comprato Alcuni pezzi nuovi Quindi Possiamo farlo Lo resolution Perché lo resolution Ho comprato la webcam nuova No filter Capiamo cazzo Monodirezionale Questa cosa Io non la capisco Perché in realtà Allora abbiamo comprato La La webcam nuova Perché mi fa Fa soltanto Lo resolution Forse dipende Dal monitor Non c'ho idea D'esta cosa La devo capire La devo capire Piano piano Ci arriveremo A capire anche questo Allora Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Comunque Se può cominciare Con questo Giustamente Che è sempre uguale Questo l'abbiamo capito Che è sempre così Poi Bisogna capire Un attimo Come bussiamo Per tutto il resto Doppio e doppio Ok Questo quindi Dovrebbe essere doppio e doppio Pure questo No Guarda Cominciò a pensare Che so Eh Questo non ce l'ho Da potergli da Vabbè Eh lo so Che non ce l'avevo Cominciò a pensare Che praticamente So casuali So in realtà Allora Facciamo così Oh ma sto video Non va bene No 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 Lo rifacciamo Perché Allora Perché lo rifacciamo Perché fare un video Che praticamente Non Non ha nessun incrocio Cioè sarà un video del cazzo Un video di merda E un video di merda Cioè ci farà perdere iscritti E comunque sia Non ci farà guadagnare niente Quindi Sprechiamo solamente Del tempo Quindi preferisco farle un altro Cercare di incastrare meglio i pezzi Per poter fare un video Che attiri più attenzione Allora vediamo qui Ok qui ci siamo Va bene Perfetto Poi Questo qui Vuole La doppia freccia Potrei fare Ok sempre così sul sound Vediamo che succede Ok questo già Per noi È inutilizzabile Vediamo questo Inutilizzabile Dai ma ne è possibile Eh 1 e 1 2 Tiè Cioè Come cazzo fa Non mi schiava Sta roba Noi Ah guardate Questo Vabbè Poi Cioè sono tutte Da due sopra Tutte sotto Ce l'ho Che Coglioni E mi si è rotto pure Dai mi si è rotto pure il computer 20 dollari per ripararlo L'ho riparato 15 volte Questo computer Ho riparato Senta Ma dove stai su cazzo Con questo occhiale di merda T'ho chiamato 15 volte in un mese Ti ho rotto Ma mi ha fatto spendere un sacco di soldi E non ma Cioè il computer ogni giorno si rompe Sì E poi io se fa Se fa così Ti ho Ma favo finta di ripararlo Eh Ma guarda tu Sto strozzo Ma questo è un altro Che amo tanto Ha rotto il coglione Ha rotto Eh ma pensa un po' E questo entra O fa come gli pare O fa Andiamo a studiare Almeno Può darsi che Combiniamo qualche cosa Ant'oggi Non è Lo so che Sto a perdere gente Perché non Non sto a fare video Eh Però cazzo A tutto c'è un limite Ragazzi Noi fanno Cioè cercamo di fare video Uno si impegna E fa video Però un po' dopo Cioè lo vedete pure voi Come va a finì Eh Allora Vai Va a dormì Questo intanto Sono passato di livello Ma mi ha dato un sacco di roba Ma mi ha dato E dovrei aver sbloccato Altre punti energia Adesso una volta Che ho mangiato Non può Work Ok Si andava a mangiare Ormai un sacco di punti Ma vediamo se riusciamo a farlo Cazzo Perché Non è possibile Sta cosa Ragazzi Cioè che Siamo provato 20 volte E glielo ho fatto A fare video Decenti Eh Ok E' uscito pure Un gioco nuovo Di la verità Ma adesso Non ci vuole Comprarlo Non vado Spendiceli i soldi Allora Costo o no Comprami Comprami se un gioco nuovo Basta Basta se giochi del cazzo Comprami se un nuovo Che decidemo noi Questo è uscito adesso Via 29 doll Niente Ce lemo Ma affanculo La pigrizia Che è Adesso appena mi arriva Ci fanno Il video Prima impressione Nel frattempo Però Andiamo a studiare Va Intanto che aspettiamo Che il gioco arriva Oh Qui abbiamo dei regali Perfetto Questo che mi hanno dato È solo esperienza In realtà Però Già è qualcosa Tiè Un'altra po' Che vuole questo Allora Gli devo fare un gioco Gli devo fare un gioco Non ho chiedo per quando Double save power gameplay Prima del 14 febbraio Vabbè Non c'è problema Me l'ha dato Ok perfetto Ma adesso Gli le ho tutte e due Allora C'è gli game Io ho comprato Vabbè aspetta Io ho comprato questo E vai a cagare Ecco Ho comprato questo E ci fanno la prima impressione Vai Sempre lo resolution Qui non ti posso Cambia il cazzo Vai vai Prima impressione De sto gioco Planet Wars Scatter Speriamo che sia figo In teoria dovrebbe essere Una sorta di picchiaduro Se non ho capito Comunque sia qualcosa D'avventura Ok Fammo subito un bel Un commento professionale Già non mi piace Quello che mi ha dato Quando sono troppo strano In quel modo Non mi piace Questo che mi dà E così Ma dammi c'è le tutte strane No ma che c'è in cula Questo si rincastrano Ma manco Allora La prima Questa Si incastra con questo Almeno quello E questo si incastra un pezzetto Eh vabbè raga Purtroppo Oh però posso mettere tutto Guardate Dai 99% di interesse Regà è stato fantastico Contenuto 170 Video qualità 67 Edizione 137 Regà Abbiamo preso un put Cioè è stato Cioè non so come cazzo ho fatto Più che altro Però il video è andato Veramente a bestia Quindi in teoria Questo ci dovrebbe far Guadagnare un sacco De soldi O perlomeno spero Andiamo Andiamo all'evento Andiamo all'evento Andiamo Dove stiamo andando Ricordate se Ma fa sempre Il gioco del cuoco Non se lo scordiamo Quello lì Ah ecco Dove siamo andati Me l'ho scordato Siamo andati Dovemmo comprare il biglietto Adesso Vi dico Alle 3 Cioè penso sia Tipo una sorta 3 Luca comics Una cosa del genere Allora Che potremmo fare qui Io non c'ho A parte parlare con gente Cioè posso parlare Con uno pelato Ok no Non posso parlare Con uno pelato Ho detto che non Cura niente Deve Ma c'è niente Parliamo con questa Allora Potremmo comprare Mantendo Game toy Oppure Possiamo comprare Un gioco Per il game toy Ma io non c'ho Una lira 12 dollari Quindi non penso Che possa comprare Game boy io Ok Quanto costa Ah vedi però Non so se queste Cioè se venendo alla fiera Possiamo acquistare Praticamente le cose Prima Che Praticamente Escano direttamente Sul Sul piattaforma Di shopping Ma se invece Proviamo a flertare Dai Voglio dire Se la faccio Conquistarla Dai Non è brutta Questa Regà C'ha il codino Ok Dai Flerta Flerta Vediamo se la facciamo Conquistarla Fiamo una scopata Stasera Adia Che non finisce più Io credo in te Dai Su Ok no Hanno smesso proprio Dei Fa qualche cosa Ok ecco la ria Che riparte il flert Regà Non mi pare Tanto convinta Lei però Eh Allora Gli eventi Vi dico la verità In questo gioco Mi piacciono un po' poco Perché effettivamente Cioè tu A ogni evento Che vai in discoteca Al cinema Ok Non puoi fare un cazzo Puoi parlare Con un po' di gente Ma non ti fanno Fa niente Quindi Eccola Oh Eccola qua Regà Cominciamo No Ho detto Ho detto Ho detto 160 dollari Se gli fa un gioco Allora Vediamo un po' Oppure Vuole la 160 dollari Per scopare Lo dico io Fidatele di me Questa L'abbia Rompico io Perché dice Che non è mostrato Guarda le 20 Guarda le 20 Che ci so Madonna Cioè è pieno È pieno Però il video È stato quasi pubblicato Quasi pubblicato Oh Aspetta Devo dare i commenti Vediamo un po' Ok Ok Allora guarda Sono quasi tutti positivi A parte uno Che vabbè Dice che Tu come osi Insomma Autoprogramarti Uno youtuber Sei il coglione Insomma I soliti Insugli I soliti Ethers Che ci sono Praticamente In ogni canale Ma Nessun canale Sarebbe perfetto Oh dio Guarda le visualizzazioni Che sto fa È partito a palla No Non lo posso promuovere Non c'ho Non c'ho Il big money Però è partito bene È partito bene Come Come primo video Di quel gioco Stanno Veramente forte Stanno Nel attimo Guardate Già ho Codinato 15 dollari Sono un cazzo 15 dollari Però Però Ci potrebbero Far comodo Comunque ragazzo Io direi Qui questo video Spero vi siete divertiti Con me Spero vi piaccia La serie E vi piaceranno Anche tutte le serie Che stiamo facendo Vi ricordo Che il 24 Comincerò anche Warhammer Total War Farò Una o due puntate Poi se vi piacerà Lo porterò avanti Mi racconto Guardate Non so Tutti Ciao a tutti Ragazzoli Grazie a tutti Grazie a tutti